Benvenuti in Italia, benvenuti in Toscana, benvenuti a Firenze, stiamo per dare il via al 72esimo congresso di Asso Enologio. Se il Fede si sente emozionato, io ho un certo remolio nelle gambe, speriamo che riesca a tenere perché è imponente questo che viene da davanti a me. Siamo portatori determinatissimi, convintissimi e ferrati. È come sempre un onore chiamare qui sul palco il Ministro della Repubblica, Maurizio Martina. Mi piace sottolineare il tema di questo congresso, di questo 72esimo congresso. Un vino, c'è un racconto, ci sono dei valori. Grazie, grazie Riccardo. L'innovazione, la sostenibilità che è il titolo tra l'altro di questo congresso. Il tema, il vostro tema, il tema della sostenibilità che ha ragione Riccardo Rotoverella, ha ragione Maurizio Martina. Ma quando parlo di Toscana, penso anche a tutti gli agricoltori che con serietà e professionalità hanno contribuito a rendere il Tino Toscano un'eccellenza del mondo. La Toscana è anche una lacuna. Le nostre produzioni dietro il prodotto vino italiano sono qualcosa che gli altri non hanno. Il primo settore che ha saputo intraprendere la strada della distintività. Abbiamo bisogno di sostenibilità a tutti i livelli, non solo paesaggistica che è importantissima, idrogeologica, ma anche quella economica. Sostenibilità è sostenibilità, industriale è sostenibilità, paese è sostenibilità del territorio. Noi la decliniamo come sostenibilità finanziaria. Il discorso che ho sentito prima di tradizione e innovazione mi sembra molto importante. Noi siamo qua sì come sponsor, ma siamo qua come colleghi, siamo qua come collaboratori. Il nostro tema fondamentale negli ultimi due anni è la sostenibilità. Penso si tratti di un tema che è certamente di grande attualità. Lavoriamo però per una archività che non è il solo professionista capace di seguire. La prima edizione del premio Assoenology Versini. Chiamo quindi a premiare Giancarlo Prevarin, presidente emerito di Assoenology, e poi la premiata, Daniela Fracassetti. Vinifera, l'Italia dei vitigni, libro che racconta il patrimonio enologico italiano tra cultura e paesaggio. Per parlarne meglio, io vorrei chiamare qui sul palco un grandissimo appassionato di vino. Ecco a voi Rocco Dolfa. La cosa bella del libro che presentiamo questa sera è che è la base scientifica dei signori del vino. Siamo tanti, veramente tanti, e siamo contenti di questa partecipazione. A questo punto comincieremo con la degustazione. Quest'anno i vini saranno presentati da dei giovani colleghi. Sostenibilità, tutto quello che c'è da dire è una lunga storia. Grazie per l'attenzione, spero vi sia piaciuta questa bellissima degustazione. Siamo pronti a ricominciare. Le chiamo sul palco Ruenza Sant'Andrea. La professione dell'enologo va bene al di là di quello che è la pura lavorazione per quanto riguarda il vino. Perchè non di descrivere quello che è la sostenibilità burocratica del registro telematico. Ci tengo a fare i complimenti alla seguita appassionologica. Dicendo appunto che gli uomini e gli dei sono nati dal caos. Questi interventi mi permettono di dire che forse sono i più profondi di tutti i progressi. Oggi abbiamo il portogallo, la contura e l'evento, il vicepresidente Stefano Limpi. Abbiamo il portogallo con noi. Buonasera a tutti. Mi costava di usare il scopo di non parlare in italiano. E ora è il momento di iniziare con la presentazione e la premiazione dell'azienda Sponsor. Abbiamo un vino che ha 14% di alcool, 5 grammi di cerveza total e meno di 4 grammi di succo. Quanti qui già provaron il vino di Porto? Il miglior vino per essere una sostenibilità della nostra regione di clima quente. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oscar Farinetti. Grazie mille di avermi invitato, sono molto onorato di essere qua. Come sapete io sono un agronomo prestato all'etologia. Chi arrivava dalle scuole dell'etologia aveva sempre una marza in più. È il momento adesso di concentrarci sull'alta ristorazione. Alta ristorazione, che cosa vuol dire oggi? Siamo partiti per cercare di capire come fare, a migliorare. La mia riflessione sulla sostenibilità è partita da una domanda che mi accompagna quotidianamente. Per rendere sostenibile un'azienda bisogna avere idee chiare, una grande visione di quello che si vuole essere. E adesso invece vorrei chiedere a Ciccio Sultano che cosa vuol dire tenere alto, tenere fermo sulla sostenibilità. È il significato di sostenere, cioè tenere alto. Noi utilizziamo la cultura giapponese nella cucina italiana. Alta ristorazione non è mangiare un piatto, è un grande chef solamente. Tutte le storie, tutti i progetti raccontati qui hanno bisogno di essere comunicati. Il vino inizia a scendere nei bicchieri. È stato bello vedere così tanta gente che è stata attenta. Tutti sappiamo che la prima annata del Salsicaya è del 68. Era anche un sogno. La differenza tra un grande Bordeaux e il Salsicaya è che il Salsicaya si può bere giovane. Entriamo nel vivo della presentazione. La prima azienda sponsor è Colombin e figlio. Il Salsicaya si può bere giovane. Adesso siamo al momento show, il talk show. E adesso il grande produttore, Carlo Conti. Dieci di Trinoli hanno fatto, come ho detto, quest'anno. E' un po' che dice, dopo un veterano della televisione, un giovane deputante, Peppino Di Carmi. E' un po' che dice, dopo un veterano della televisione, un giovane deputante, Peppino Di Carmi. Pensate, posserebbe il mondo del vino oggi senza i noci. Grazie.